Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova non recensione per il canale YouTube di Marcosbox. In questa nuova non recensione andremo a dare alcune impressioni a caldo su Linux Mint 22, la nuova major release della più famosa e apprezzata derivata di Ubuntu. Mentre sto registrando questo video non è stato ancora pubblicato l'annuncio ufficiale del rilascio di Linux Mint, però come di consuetudine gli sviluppatori di Linux Mint hanno già iniziato a caricare i suoi server principali di Linux Mint quindi al rilascio mancano giusto un paio di ore, un paio di giorni, quelli di solito fanno così, iniziano già a caricare e poi si prendono sempre con un comodo per fare l'annuncio ufficiale. A volte lo fanno anche per prudenza perché magari si scopre un bug dell'ultimo minuto. Quindi vi dico anche, apprezziamo un piccolo disclaimer, io qua sotto vi lascio in descrizione il link per poter scaricare in anteprima l'anuncio di Linux Mint 22 però non fatelo se non siete utenti consapevoli che potrebbe nascere qualche piccolo bug. Quindi aspettate il rilascio ufficiale, l'annuncio ufficiale del rilascio. Se però siete malati e aggiorniti come me, correte a scaricarlo. Magari ve lo testate in macchia virtuale come fa il sottoscritto e non su macchina di produzione. Ma vediamo quali sono le novità di Linux Mint 22 che c'eravamo spoilerate nel corso degli scorsi mesi. Ovviamente partiamo dal fatto che Linux Mint 22 è basata su Ubuntu 24.04 LTS godrà di supporto esteso fino al 2029, utilizza i kernel Linux 6.8 che è presente su Ubuntu 24.04 LTS e le varie point release di Linux Mint 22 seguiranno la serie HWI di kernel, quindi dello stack hardware di kernel e driver e quant'altro. Quindi seguiranno le point release di Ubuntu. Sapete bene come fa Ubuntu negli ultimi anni? che per quanto riguarda le LTS in concomitanza del rilascio delle point release si va a sincronizzare con i kernel e quant'altro con i rilasci semestrali, con le versioni semestrali del kernel. Quindi fa un backboard in modo tale che, diciamo così, è tutto bello testato per nove mesi quindi si assicura che tutto funziona. E anche il team di Linux Mint ha deciso di seguire questo schema. Altra novità riguarda che le soggenti software hanno ricevuto il supporto per il nuovo formato Debian DEB 8.2.2 Supporto migliorato per quanto riguarda la gestione del supporto linguistico praticamente quando noi andiamo ad installare la distribuzione alla fine dell'installazione troveremo che verrà utilizzato meno spazio rispetto al passato perché? Perché tutti quanti i pacchetti linguistici che non ci interessano vengono automaticamente rimossi quindi viene conservato soltanto il nostro pacchetto locale nel caso nostro italiano e quello inglese che è, diciamo così, quello base della distribuzione. Altre novità riguardano i temi che sono stati aggiornati per supportare il GTK4 è stato aggiunto il supporto JXL a PIX ed è stato implementato un nuovo editor di miniatura tutto il software che utilizzava LibSoft 2 è stato migrato a LibSoft 3 sono stati apportati miglioramenti a supporto a KDPI nella sequenza di avvio in PlayMount e SlitGrader quindi nella schermata di login è stato fatto un lavoro interessante per quanto riguarda una nuova X-App che è l'account online per la gestione degli account online e troviamo adesso un pacchetto di Thunderbolt interamente compilato in casa perché Linux Mint ha dovuto compilarsi in casa il pacchetto di Thunderbolt perché Ubuntu nell'ultima LTS ha deciso di propinarci così come ci propina con Firefox di propinarci anche Thunderbolt in formato Snap siccome sapete bene che Linux Mint è il capofile tra i nemici del formato Snap e quindi non offre out of the box il supporto al formato Snap sulla propria distra hanno deciso quindi di mantenere Thunderbolt come client di post e di compilarsi Thunderbolt da soli non è uno sforzo molto gravoso immagino per il team di Linux Mint perché Thunderbird non ha rilasci frequenti nel tempo come Firefox ci sono dei rilasci cadenzati annuali altra novità troviamo che il visualizzatore di caratteri di GNOME è stato rimosso e una serie di applicazioni sono state declassate alle versioni GTK3 per meglio diciamo così essere compatibili con Cinnamon, con Mate e con XFSE quali sono le applicazioni che sono state declassate alle GTK3 tra i modi celluloid, GNOME Calculator, Simple Scan, Baobab, System Monitor, GNOME Calendar, File Roller e Zenity altra novità che troviamo anche su questa nuova versione di Linux Mint riguarda il software manager che adesso ne migliora in prestazioni e che adesso come potete vedere qui da alcuni screenshot ha una particolarità praticamente le applicazioni in formato Flat Pack vengono contrassegnate come non abilitati quindi quando andremo ad abilitare il Flat Pack tutte quante le applicazioni in formato Flat Pack ci vengono segnalate come non verificate e tutte quelle che non sono verificate appunto e ci viene mostrata questo avviso questa applicazione non è verificata in questo caso ad esempio Chrome che non è ufficialmente verificata su FlatTab questo serve per aumentare la consapevolezza nell'utente nell'installazione di pacchetti in formato Flat Pack perché secondo me l'hanno fatto per mettere le mani avanti perché sanno che potrebbe scoppiare la patata bollente anche in seno a FlatTab quindi di applicazioni non verificate applicazioni fraudolente quindi loro dicono io te lo metto in disclaimer all'interno dello store se tu stai installando un Flat Pack non verificato te lo faccio vedere te lo dico potrebbe succederti le peggio cose ed è una cosa che personalmente apprezzo perché comunque visto che considerato che Linux Mint è una distribuzione per gli utenti a riprimiarmi mettere un disclaimer di questo tipo aiuta agli utenti a riprimiarmi ad avere maggiore consapevolezza della propria distribuzione qui poi nelle note di rilascio che troviamo su Linux Mint 22 troviamo alcune informazioni bug che si possono verificare su VirtualBox crash su macchine virtuali ci spiegano come ripristinare i vecchi font di Ubuntu se quelli nuovi di Ubuntu che sono più slim più sottili non ci piacciono è stata fatta la migrazione a Papware qui ci spiega anche in caso di problemi come risolvere ci spiega anche come riabilitare o riabilitare il formato Snap addirittura hanno fatto un capitolo che spiega come riabilitare il formato Snap su Linux Mint 20 anzi 20 perché questo è una guida vecchia da quel capito altre informazioni su Touchpad sui travel e Touchpad insomma andatevi a leggere le note di rilascio per andare a vedere gli eventuali problemi a cui potreste andare incontro nell'utilizzo della distra vi dico fin da subito che ci seguirà seguirà sulle pagine di Marcosbox non appena si sarà fatto il rilascio ufficiale seguirà una consulita guida post-installazione su Linux Mint 22 perché me la chiedete sempre a gran voce quindi perché non accontentarvi andiamoci a avviare questa nuova macchina virtuale andiamoci a dare un po' di RAM insomma ci sono 4GB e andiamoci a dare 25GB di spazio andiamo a creare la macchina virtuale e andiamo a vedere un po' come va attendiamo il caricamento e ci andiamo a fare una carrellata di questa nuova versione di Linux Mint andiamo a vedere un po' quali sono i parcosoft e preinstallato le caratteristiche che ve l'ho accennate prima quindi alla fine non mi soffermerò poi tanto su questa parte aspettiamo il caricamento che ci sta mettendo un po' troppo di tempo per i miei gusti forse dagli più risorse vabbè ormai è stato fatto ecco qui non abbiamo visto la schermata di caricamento di playmout perché fosse un problema della macchina virtuale però se utilizzavo i virtmanager di sicuro con virtmanager utilizzando avremmo visto la schermata di caricamento andiamoci a cambiare subito la risoluzione andiamoci a dare una risoluzione accettabile in modo tale che non diventiamo ciechi né io né voi e andiamo a mettere tutto schermo la macchina virtuale installiamo la distribuzione andiamo un po' l'installer è sempre di solito installare di linux mint ma perché non è stata fatta nessuna modifica tranne la risoluzione dei problemi per quanto riguarda EFI andiamoci a dare la lingua italiana qui possiamo leggere note di rilascio cliccandoci qui installare è uno dei migliori installare che stanno in giro semplice e immediato andiamo a andare avanti qui ci fa scegliere la tastiera qui è possibile in fase di installazione installare i codec multimediale magari non li installiamo perché tanto non ci interessa adesso risparmiamo un po' di tempo nell'installazione anche se con questa nuova versione di linux cioè anzi con questo nuovo da qualche mese a questa parte con linux mint è stato migliorato anche sono state migliorate anche i server quindi non dovrebbero esserci probi dovrebbe essere tutto più veloce qui è possibile ovviamente avviare l'installazione è possibile fare quella automatica cancellare installare il disco oppure altro vi faccio vedere andandosi a personalizzare i punti di montaggio e quant'altro noi andiamo visto che ci troviamo che è una macchina virtuale non ci interessa andiamo a fare quella automatica siamo in Italia riusciamo a Roma mettiamo il mio nomino mint andiamo a mettere una password difficilissima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 qui possiamo spuntare accedere automaticamente oppure no qui è possibile crittografare poi spuntando questa voce la cartella personale la directory home e vediamo un po' quanto tempo ci mette a installare vediamo se è veloce qui le solite schermate che troviamo su praticamente tutti quanti gli installer ci dai benvenuto su Linux Mint non è stato aggiornato forse sono sempre le stesse immagini che troviamo da diversi anni a questa parte potevano fare degli screenshot nuovi qui ci vuole vedere che ci consigliano Spotify addirittura in fase di installazione tra i programmi tra i player video consigliati troviamo celluloide mpv e vrc pix e il programma per l'editing di immagini drawing troviamo poi gimp e inkscape qui che ci fa vedere mantieni i tuoi contatti resti in contatto con i miei amici e conoscenti c'è whatsapp c'è slack c'è discord c'è signal tra i suggerimenti ovviamente la suite d'ufficio è libre office come non non fare altrimenti perché è l'unica è la suite d'ufficio più comprita anche se personalmente non è quella che preferisco in questo particolare momento storico perché spesso mi trovo ad avere problemi anche se i problemi si generano con libre office quando si tratta di interoperabilità con i formati proprietari microsoft quindi lavorare con altri me sto accogendo adesso ultimamente al lavoro perché sono l'unico che utilizzo libre office in ufficio e spesso e volentieri vado a sistemare il layout delle schede tecniche lo faccio con libre office passo i file in formato doc in formato libero ai colleghi e vado a aprire con office o office 365 e va tutto sbagliato e io poi piango quindi sono costato ogni volta a esportargli il pdf per potergli far vedere com'è il risultato finale quindi nel frattempo che continuo l'installazione i programmi consigliati virtualbox e wine facciamo così mettiamo un attimo in pausa altrimenti qui vi annoio con mille chiacchiere poi non so manco più che dire ci vediamo ci vediamo fra poco appena termina l'installazione allora abbiamo terminato l'installazione adesso andiamo a riavviare la macchina virtuale andiamo a vedere un po' a dare uno sguardo a questa nuova versione di linux mint qui vedete qui c'è anche l'animazione quella lì di caricamento iniziale carina perché c'è questo cosino che gira mi sembra che in passato non era presente andiamo a riavviare la macchina virtuale una volta installata andiamo a vedere un po' come si comporta quali sono i programmi preinstallati andiamo a dare uno sguardo anche a quel discorso di cui accennavamo prima riguardante i flat pack non verificati come vengono gestiti per le prestazioni mi riservo di parlarvene magari nella guida post installazione che faccio un piccolo preambo e vi spiego come gira su macchina installata allora andiamo a dare la nostra password super difficile che abbiamo messo in fase di installazione 1,2,3,4 e andiamo ad avviare il linux mint 22 c'è sempre questo suono di avvio che non c'è cambiamo la risoluzione dello schermo subito subito 1920 1920 per 1080 applichiamo ok mantieni questa nuova configurazione mi direi che si è tolto ah no schermata di benvenuto questa è la solita schermata di benvenuto che troviamo su linux mint che viene confermata anche su linux mint 22 benvenuto su linux mint questo è il nuovo sistema operativo qui ci fa vedere ci fa lanciare alcune applicazioni ci fa gestore ragionamenti gestore applicazioni firewall ci fa installare i codec multimediali che prima non abbiamo installato ad esempio facciamo subito vediamo subito come funziona si apre subito la schermata di installazione non ci chiede nemmeno la password per installare il tutto buona questa cosa ah no ce la chiede adesso pensavo che ce la chiede poi che inizio invece no ci viene chiesta comunque adesso così come dovrebbe essere qui sta andando a installare i codec multimediali che prima non avevamo installato in fase di installazione ma andiamo a vedere che cosa c'è più documentazione qui è possibile avere il link alla documentazione quindi spiegano quali sono le funzioni noti di rilascio quindi collegamenti rapidi link al forum online alla chat su matrix e qui è possibile contribuire a linux mint cliccandoci qui si aprirà insomma una pagina per per chiunque voglia collaborare voglia partecipare al processo qui troviamo anche i tool quello lì che troviamo ormai da diverso tempo su linux mint che lo sono per gestire le istantanee di sistema time shift che è un tool che piace a moltissimi di voi che perché vi consente di avere sempre delle istantanee della propria macchina in modo tale da poter ripristinare facilmente il sistema qualora qualcosa dovesse andare storto ed è un tool che a mio avviso dovrebbe essere installato su tutte le distribuzioni qui giusto che ve l'ho fatto a partire vabbè ma se volete maggiori informazioni magari vi faccio un video dedicato su time shift su come funziona anzi scrivetelo qua nei commenti se volete un approfondimento allora questa è la schermata principale come al solito il classico aspetto alla windows passate mid termine quindi cinnamon viene viene in questa forma con il pannello in basso di default con le nostre scorciatoie a nemo il file manager qui possiamo già dare un'occhiata alle icone di sistema spieghiamo il cd dell'installazione il link a firefox vabbè qui è un firefox normale non ci sono più tante 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 modifiche tante personalizzazioni così come erano prima nella schermata di principale anzi andiamo a confermare quanto sto dicendo vediamo un po' se vi rimanda ok si non vi rimanda più alla alla schermata principale del sito linko spinta qui è l'emulatore del terminale che come al solito è gnome terminale versione 3.52 ecco visto che si sono sviluppate tante xapp perché non si sviluppano anche un emulatore del terminale non lo so in basso a destra che cosa abbiamo abbiamo l'area delle notifiche qui con i rapporti di sistema che ci dà informazioni sui eventuali arresti anomali e quant'altro qui troviamo il gestore aggiornamenti andiamo a avviare che la prima cosa che bisogna fare appena si installa Linux Mint andiamo a applicare subito gli aggiornamenti consigliati quindi in questo caso non c'è niente c'è soltanto un aggiornamento del pacchetto bind quindi una volta installare che ho permesso negato vabbè bug che ritrovo così poi andremo a approfondire perché è uscito fuori quel messaggio nell'impostazione del gestore aggiornamenti andiamo a vedere che cosa si può fare qui c'è la gestione dell'interfaccia del gestore aggiornamenti la possibilità di programmare la ricerca degli aggiornamenti automatici le notifiche i pacchetti qui possiamo preattivato come possiamo vedere vengono installati in automatica gli aggiornamenti per le spezie di cinnamon che sono tutte quelle delle estensioni plug-in e quant'altro abbiamo preattivata la funzionalità che consente di aggiornare in maniera automatica i pacchetti in formato Flutter Pack e qui qualche altra informazione delle azioni automatiche che non andiamo a toccare se non sappiamo che cosa stiamo facendo cliccando su origini software vediamo che cosa succede su origini software qui ci fa vedere quale è il server principale il mirror principale per andare a scaricare gli aggiornamenti i PPR i repository aggiuntivi i chiavi di autenticazione e qui possiamo fare una piccola manutenzione quindi rimuovere voci duplicate aggiungere chiavi mancanti e quant'altro anche questa è una pensata giusta quella del team di linux mint in basso che cosa abbiamo poi abbiamo l'orologio con i widget del calendario andiamo a vedere quali sono le applicazioni preinstallate negli accessori troviamo la calcolatrice che come avevo detto prima è stata backportata la versione precedente il editor di testo che è praticamente un xapp questa sviluppata in casa mint che è xed semplice ma è immediato e soprattutto un'applicazione che funziona perfettamente si integra perfettamente sia su cinnamon che su matrix che su xfse che sono i tre desktop environment di linux mint troviamo poi i gestori dischi formatta pen usb che è uno dei tour di linux mint gestori archivi le note che possiamo applicarci non so a chi piacciono avere le sticky notes su desktop siete delle persone bruttissime se fate queste cose poi che cosa abbiamo io uso un grosso utilizzatore di post it però questo qua non riesco a capire che cosa ci troviate qui troviamo poi rinomina file scrivi immagini usb insomma è warpinator che è il tour per poter scambiare ricevere file attraverso la rete locale che è un tour molto molto apprezzato diverse persone lo installano anche su altre distribuzioni per quanto riguarda la gestione dei file audio e video troviamo celluloid come player video che è un ottimo player video troviamo poi hypnotics che è un visualizzatore di tv qui possiamo vedere possiamo vedere una serie di canali tv da diverse nazioni vediamo se c'è qualche cosa che ne sono da Giappone non vi avvio nulla perché ho paura che mi si arriva uno strike per qualche secondo adesso ci può prima qui c'è il link è che è proprio il petto è un uno strumento interessante questo qua un'applicazione interessante poi abbiamo ritmo box per gestire e organizzare la nostra collezione musicale non ve lo faccio vedere perché è straconosciuto per la grafica acquisizione di documenti che sarebbe document scanner drawing e poi pix che è l'x app che mi ha fatto crashare il text stupendo stupendo questo bug avete visto in diretto questo bug poi dite che non è vero che io attiro il bug vabbè dai diamo la colpa alla macchina virtuale non lo avvio più pix dimendiamolo fare un'altra volta applicazioni web che consente di eseguire i siti web come se fossero applicazioni quindi progressive web app una specie di progressive web app thunderbird come programma per la gestione della post elettronica firefox per il browser web matrix che è la nuova x app per la chat line per il support e quant'altro lasciate anche un commento se volete un approfondimento su questa nuova x app troviamo poi transmission per la gestione dei file torrent suite d'ufficio troviamo ovviamente libre office che è la suite d'ufficio quella più apprezzata e completa tra le suite d'ufficio libere si sta bloccando a mezzo mondo sta registrando ancora si io lo mettiamo continuamente vabbè caricherà prima o poi libre office se c'è qualche problema diamo la coppa anche in questo caso alla macchina virtuale troviamo poi nei tour di amministrazione oh veramente si è bloccato tutto qua ma perché allora vedete io ripeto ci sono dei momenti in cui viene lo sconforto si è bloccato anche il task manager cioè avete presente il meme tu dovevi sconfiggere e non unirti al goro ecco riavviamo la macchina riavviamo riavviamo il tutto perché questa cosa non mi va giù non mi va giù riavviamo la macchina virtuale poi vedete è una cosa che viene da ridere è vero a voi capito ormai tutti questi bug mettiamo un attimo in pausa io volevo lasciarvi tutto live ma me la sentivo mi sentivo a vecchia che non sarebbero stati problemi la macchina virtuale si è piantata altre due volte durante il riavvio il libero office abbiamo visto che c'è non lo abbiamo più perché ancora ci fa crashare nuovamente ci fa bloccare mezzo mondo come prima qui nei tour di amministrazione che troviamo il gestore aggiornamenti il gestore applicazioni il gestore sintaptic dei pacchetti il gestore dei driver che serve per poter installare i driver proprietari e quant'altro origini software le stampanti time shift che abbiamo visto prima e insomma le cose standard andiamo a vedere un'occhiata prima di passare un po' alle impostazioni di cinema andiamo a dare un'occhiata l'installazione dei pacchetti in formato flat pack così andiamo a vedere un po' come funziona tutto andiamo a avviare il gestore applicazioni sta facendo la generazione della cache in corso quindi attendiamo qualche secondo che venga completata e andiamo a vedere come funziona questa nuova queste nuove disclaimer che sono stati messi all'interno del gestore applicazioni quando andiamo a installare applicazioni in formato flat pack non verificate attendiamo mi sa che nel frattembre mentre sta caricando questo vi faccio vedere qualche altra cosa altrimenti oggi finiamo a mezzanotte allora queste vabbè sono le solite impostazioni di cinema per la gestione dell'aspetto qui troviamo i vari temi e si sta bloccando ecco è arrivato come dicevo qui troviamo i vari temi è il tema misto il tema scuro il tema chiaro qui possiamo gestire gli accenti di cinnamon di default troviamo il tema mint y però abbiamo anche mint l e mint x che sono delle vecchie versioni del tema mint ma andiamo che ne sono ci mettiamo anche uno schema di colori così vediamo se possiamo mettere uno schema scuro così vediamo che cosa cambia vi cambia anche il tema di icone interessante questa cosa di personalizzazione qui possiamo avere i vari schemi di colore preimpostati figa questa cosa dai mi piace mi piace come hanno come l'hanno lavorato quelli di linux mint qui ci possiamo mettere tutti i colori che ci piacciono mettiamo no viola no mettiamo questo qua che è molto buntesco no no torniamo al tema di default va altre impostazioni qui la gestione degli sfondi troviamo i vari sfondi questi sono gli sfondi quelli tipici di di linux mint 22 è bello questo sfondo molto bello ma lo devo estrarre me lo devo mettere su tutte quante le mie macchine anche con altri sistemi operativi qui nelle impostazioni abbiamo la gestione degli account online di cui vi avevo parlato vi avevo parlato con la nuova xapp di cui vi avevo parlato all'inizio video questi sono i vari fornitori di account online che poi vanno integrati all'interno i thunderbolt i calendari e di quant'altro la gestione degli angoli degli hot corner la gestione degli applet se vogliamo scaricarne di nuovo aggiungere e quant'altro applicazioni di avvio che ci consente di personalizzare quali applicazioni avviare con l'avvio della macchina e poi ci sono le altre cose standard quindi gestione del colore schermate la risoluzione dello schermo gestione dell'alimentazione il comportamento come dopo quanti minuti deve entrare deve diventare in attivo insomma le cose standard che troviamo su qualsiasi desktop and brand ma torniamo all'argomento di cui di cui stavamo parlando all'inizio ovvero del gestore applicazioni andiamoci a installare un'applicazione in formato flat pack vediamo un po' come funziona prendiamoci che adesso free tube ma che ci sta bella propinata free tube andiamo a installare vediamo che cosa ci dice adesso andate a prendere giusto giusto un'applicazione che è compatibile andiamoci a vedere che ne sono di installazione di chrome perché per esempio vi fanno vedere chrome vediamo se c'è google chrome qua chrome shell nuovo video google chrome vediamo un po' da che dobbiamo abilitarli mi sto perdendo questa questa impostazione ah ecco si scemo io scemo io che non ci ho pensato vabbè in questo caso vi sto facendo vedere sto installando il pacchetto flat pack di di free tube e lo sto installando perché in maniera tranquilla senza crearci problema è un pacchetto di di flat pack verificato su flat su flat tab quindi nessun problema ce lo propina ce lo consiglia ce lo fa installare andando nelle preferenze delle impostazioni dei gestori applicazioni qui possiamo selezionare selezionare l'attivazione l'installazione di flat pack non verificati come potete vedere questa opzione è disattivata per impostazione predefinita dobbiamo andare a sapere che dobbiamo andare a attivare dobbiamo essere coscienti di voler attivare ecco questa cosa per esempio non si beh forse hanno fatto bene dai col segno di poi hanno fatto bene non trovare a non rendere pre preattivata su su guinux mint per i nuovi utenti dai forse hanno fatto bene dai ma la volevo criticare perché sono un utente smanettone quindi di conseguenza io preferivo un'opzione già attiva con i disclaimer invece hanno proprio pensato di disattivare poi mettete i disclaimer che cosa stai andando in grondo se la vai ad attivare la funzionalità e qui come possiamo vedere possiamo abilitare la visualizzazione di fratto pack non verificati ci dice chiaro e tondo che non è raccomandato noi lo andiamo ad attivare per la scienza e ci dice anche che i fratto pack non verificati rappresentano un enorme rischio per la sicurezza non sono ufficialmente approvati dallo sviluppatore dell'applicazione e potrebbero essere mantenuti da chiunque per evitare potenziali malware si consiglia vivamente di non utilizzare i fratto pack non verificati ce lo dice ce lo dice ce lo dice chiaro e tondo e noi adesso andiamo a vedere che cosa succede se noi andiamo a instagarci google chrome ok come possiamo vedere se noi adesso andiamo a cercare google chrome lo troviamo prima non lo trovevamo trovevamo sia la versione stabile che quella instabile e siccome adesso abbiamo attivato la visualizzazione dei fratto pack non verificati lui comunque ce lo ricorda lo stesso giovane ce lo dice in rosso vedi questo fratto pack non è verificato quindi lo stargli a tuo rischio è pericolo eccesso di prudenza che non ci sto pensando in effetti fanno bene fanno bene continuano a pensare che sia una cosa buona e giusta per tutelare gli utenti gli utenti che per la prima volta si affacciano al mondo linux e non solo perché ho visto anche utenti che utilizzano linux da diverso tab però ci vanno un pochettino con la mano leggera a installare applicazioni in formato flat pack senza stare a verificare la fonte quindi infatti avete visto l'ha installato anche in maniera rapida molto rapida quindi senza dare problemi qui è Chrome che funziona in formato flat pack vabbè chiudiamolo maledetto Chrome quindi dai ci sta ci sta l'implementazione che hanno fatto per la gestione dei pacchetti flat pack gg per il team di knoxpint e vabbè il resto delle funzionalità inutili che ve le faccio vedere in questo video perché alla fine è cinnamon soltanto con una nuova versione quindi con correzioni di bug e quant'altro non troviamo nulla di importante nulla di nuovo da segnalare le cose da segnalare ve le ho fatte vedere quali sono sono la gestione dei pacchetti in formato flat pack dallo store vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere un po' quali sono i programmi preinstallati vi ho fatto vedere le impostazioni di sistema di cinnamon non c'è nient'altro che ci può interessare in questa impressione a caldo su Linux Mint 22 e traghiamo un po' le conclusioni su Linux Mint 22 allora ripetiamo ripeto il discorso che stavo facendo prima Linux Mint è una distribuzione che strizza lock agli utenti alle prime armi è una delle distribuzioni che tutti quanti noi pinguini un po' navigati consigliamo a chi si vuole affacciare per la prima volta al mondo di Linux perché Linux Mint è come quel porto sicuro sappiamo che se noi indirizziamo se noi ci andiamo verso quel porto non avremo problemi di sorta troveremo un po' tutti i comfort un po' tutte le caratteristiche che ci piacciono a noi e non incorreremo in problemi e quindi quando noi indirizziamo noi pinguini di vecchia data indirizziamo utenti nuovi verso Linux Mint sappiamo che li stiamo indirizzando in buone mani perché gli stiamo consigliando una distribuzione che è stabile essendo basato su Ubuntu LTS che è un ambiente desktop familiare che ha una serie di strumenti che aiutano a gestire la distribuzione come ho visto prima il software per la gestione degli aggiornamenti il software per l'installazione dei programmi adesso si arricchisce di alcune funzionalità a volte a migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti quindi a evitare che gli utenti a riprimarmi facciano delle fesserie nell'utilizzo della distribuzione e questa scelta di implementare questo livello di sicurezza aggiuntivo sui pacchetti in formato Flatpak non verificati da FlatTab è una cosa che va a maggior tutela degli utenti abbiamo visto che il parco software di Linux Mint è un parco software comprito quindi una volta che vi installate Linux Mint 22 avrete tutto quello che vi serve per poter lavorare per poter navigare per poter dedicarvi allo svago quindi visualizzare visualizzare i film poter anche giocare con Wine quindi abilitare il livello di astrazione per i programmi Windows abbiamo anche un programma che è preinstallato per quanto riguarda la gestione delle tv avete visto prima c'è quella X-App dedicata proprio al mondo del faccio vedere Hypnotics che è dedicata a chi si diretta anche a vedere film e canali tv da da diverse fronte quindi da diverse nazioni ed è una cosa che mi piace mi piace come gestita qui per esempio qui anche abbiamo la sezione film che vi fa giusto giusto il grande fratello capita vabbè insomma troviamo una serie di link una serie di contenuti quindi alla fine mi piace dai alla fine mi piace come sta proseguendo cinnamon come sta continuando cinnamon come sta continuando linux mint in sinergia perché cinnamon e linux mint linux mint e cinnamon come stanno propinando la loro visione di desktop come stanno propinando quelli di linux mint la loro visione di distribuzione voto voto da 1 a 10 io mi sento di dargli un 8 un 8 pieno a questa distribuzione l'ho sempre apprezzata l'ho utilizzata in passato ogni tanto ci riprovo la ristallo e mi ci mi ci sia a caso per quando quando voglio qualcosa di usabile quando voglio accontanami da eventuali bug di Ubuntu di Gnome e quant'altro quindi trovo sempre un porto sicuro e troverete anche un porto sicuro voi se volete se volete provarla beh vi ho detto tutto consigliate installatevola fateci un pensierino su linux mint trovate poi una serie di guide su marcosbox dedicate a linux mint trovate la guida post installazione se volete qualche altra informazione su linux mint vi consiglio soprattutto di andare a guardare il canale alternativa linux dove è dedicato principalmente a linux mint dove vi fa vedere tutte quante le prerogative di questa distribuzione mi parla sempre bene l'autore di questa distribuzione quindi oh provatela provare per credere lunga vita prosperità a tutti quanti ci rivediamo in una prossima anteprima a caldo video recensione a caldo su una distribuzione dell'appuntamento fissatelo sul calendario ve lo dico già adesso per il mese di agosto perché verrà rilasciata la prima versione alfa basata su ubuntu 24.04 di PopOS quindi andremo a vedere la nuova versione di PopOS e andremo a vedere Cosmic in quel video di impressione a caldo quindi restate sintonizzati sulle pagine di Marcosbox sul canale YouTube di Marcosbox ciao ciao